Il tesoro del re della montagna, un patrimonio da 150 milioni di euro, fatto di centinaia di beni immobili e immobili, viene confiscato dalla Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria a Rocco Musolino, l'ex sindaco e boss di Santo Stefano d'Aspromonte, morto pochi mesi addietro. Ticket, al vaglio 10.000 cittadini, i controlli incrociati dell'azienda sanitaria provinciale e della Guardia di Finanza di Vibo Valencia accendono i riflettori su una vasta sacca di evasione, al via le comunicazioni e per chi non si mette in regola, dicono prefetto e fiamme gialle, stop alle prestazioni specialistiche. Crotone, terapia intensiva neonatale a rischio, il reparto potrebbe fermarsi definitivamente dopo 30 anni di preziosa attività. Il parlamentare Nicodemo Liverio sollecita un intervento del Ministero della Salute e del Commissario alla Sanità. Cosenza, arrivano gli americani, la città Abruzia rinnova il gemellaggio con Kenosha e da oltreoceano arrivano comitive a stelle e strisce che decidono di trascorrere in Calabria le loro vacanze estive. Torna Armonie d'Arte Festival, presentata a Catanzaro la grande manifestazione che si svolgerà a Roccelletta di Borgia dal 19 al 27 luglio nel suggestivo teatro naturale del Parco Scolacium. Buona mercoledì e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la Cronaca, un patrimonio da 150 milioni di euro, beni immobili per 338 stabili e tanto, tanto altro è la Maxi Confisca che la Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria ha effettuato nei confronti di Rocco Musolino, ex sindaco di Santo Stefano da Spromonte e boss dell'Andrangheta più comunemente conosciuto come il re della montagna. È morto a giugno ed è morto da innocente Rocco Musolino, detto il re della montagna, il presunto boss di Santo Stefano da Spromonte, al quale oggi la procura di Reggio ha confiscato beni per il valore di 153 milioni di euro. Una confisca preventiva che nasce dall'impossibilità del presunto capo mafia di giustificare gli oltre 300 fabbricati e 200 terreni sui quali ha indagato la D.A. Regina. Rocco Musolino avrebbe iniziato la propria carriera criminale negli anni 70 con la sua impresa boschiva, legandosi a tutte le più forti consorterie criminali della zona. Nel 1977 viene indagato per l'omicidio di Giorgio De Stefano, poi finisce nella rete del processo Olimpia. In entrambe le occasioni esce in tonso dai procedimenti giudiziari. Nel luglio 2008 sfugge miracolosamente anche a un agguato che avrebbe dovuto concludersi con la sua morte. Tutti elementi che hanno fatto ritenere al Tribunale misure di prevenzione che i beni accumulati da Musolino non provenissero esclusivamente dai proventi della sua azienda di legnami, ma anche dalla sua presunta vicinanza alle cosche regine e dalla sua mai dimostrata in giudizio appartenenza all'andrangheta. Tra i beni sequestrati anche l'impresa boschiva di Musolino e quote di una società immobiliare. E sempre a Reggio Calabria nel frattempo continuano le discussioni davanti al Tribunale del riesame per gli indagati nell'ambito dell'inchiesta Rimborsopoli. Respinti i ricorsi di Bilardi ed Adamo si attendono gli esiti su altre istanze prodotte dalle difese. Sfilano per il riesame i politici coinvolti nell'operazione Erga Omnes, la retata con cui la procura di Reggio Calabria ha scatenato lo scandalo Rimborsopoli nel Consiglio regionale calabrese. Il ricorso del senatore NECD Giovanni Bilardi è stato rigettato e la giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama dovrebbe pronunciarsi a breve sul suo arresto. Stessa sorte per Nicola Adamo. L'ex consigliere, pur avendo dichiarato di voler continuare attivamente la propria pluridicennale carriera politica, non ricopre attualmente alcun incarico pubblico, ragione per la quale la sua difesa ha spinto per la revoca del divieto di dimora in Calabria in carenza delle esigenze che lo giustificano, senza però evidentemente convincere il Tribunale. Ieri è toccato all'autista di Bilardi, Giovanni Trapani, tentare di convincere i giudici a riesaminare la propria posizione. Al momento non si conosce ancora la decisione del Tribunale, anche se, secondo le indiscrezioni, la sua situazione potrebbe seguire le sorti dell'ex consigliere del centrodestra, dato che, sostanzialmente, i due risultano indagati per le stesse condotte. Il punto sul quale le difese cercheranno di spingere sarà presumibilmente l'insussistenza delle esigenze cautelari per tutti gli otto politici destinatari di misure preventive. La Procura, però, potrebbe già avere la testa rivolta al possibile processo. Dovrà riuscire a dimostrare il dolo di ogni singolo indagato nell'utilizzo improprio dei fondi consigliari, dalle posizioni più gravi a quelle più lievi che investono i nomi noti degli ultimi dieci anni di politica calabrese. Restiamo nel Regino, ma spostiamoci a Caraffa del Bianco, dove il parroco del luogo è finito in ospedale dopo un'aggressione maturata nel contesto di una discussione sulla festa patronale. È ferito seriamente ad un occhio e sull'episodio è durissimo il commento del Vescovo Oliva. Per la festa patronale ci sono pochi soldi, una ragione sufficiente a picchiare il prete. È accaduto ieri a Caraffa del Bianco. Padre Silvestri Bara, sacerdote congolese di 37 anni, è stato aggredito dagli organizzatori della festa patronale dell'8 agosto. Come detto, al centro del diverbio ci sarebbero le difficoltà economiche per il finanziamento della celebrazione, difficoltà che Don Silvestre stava espimendo ai propri interlocutori durante un incontro. Il tono della discussione si è alzato e il sacerdote è stato colpito ripetutamente al volto. Le percosse gli hanno lesionato un occhio e adesso il prete è ricoverato agli ospedali riuniti di Reggio, dove i medici stanno valutando di sottoporla a un intervento chirurgico. Dura la reazione del vescovo di Locri e Gerace, Monsignor Francesco Oliva. Sono preoccupato, ha detto il presule, per il gravissimo atto di violenza compiuto nei confronti di un sacerdote venuto da lontano per porgere con amore il Vangelo nella nostra terra. Per il momento, ha dichiarato ancora Oliva, la cosa che conta più di ogni altra è stare vicino a Don Silvestre, ferito nel fisico e nell'animo, perché superi questo momento e guarisca presto. A lui, ha concluso ancora il presule, va tutta la solidarietà del clero e della comunità diocesana. Ha preso il via stamattina a Policoro la manifestazione contro le trivellazioni finalizzate alla ricerca di petrolio in mare e sulla terra nell'area del Golfo di Taranto. Presenti cittadini e amministratori nella città lucana per urlare il rifiuto all'installazione di piattaforme delle compagnie petrolifere per la ricerca di idrocarburi nelle acque. L'iniziativa è stata promossa dalla sindaco di Policoro Roccoleone di concerto con i presidenti delle regioni Puglia, Basilicata e anche Calabria. Ed ora passiamo proprio alle questioni regionali, alle questioni politiche regionali, dove si registra ancora un clima abbastanza atteso nel Partito Democratico in seguito al varo della nuova giunta regionale operata dal governatore. Il trionvirato Oliverio Magorno e Renzi viene messo a durissima prova. È stata erovente per il Partito Democratico, è stata che rischia di infuocarsi ulteriormente da qui alla prossima assemblea regionale. Il trionvirato Oliverio-Renzi Magorno potrebbe non tenere alla distanza. Le ripercussioni delle scelte operate dal governatore nella formazione del nuovo esecutivo potrebbero influire non poco sulla stabilità della stessa maggioranza. I renziani, dopo aver rinunciato a Tonino Scalzo, non intendono cedere ad altre correnti del PD la presidenza del Consiglio regionale. In corsa vi sarebbero vari pretendenti, da Mimo Battaglia a Nicola Irto fino ad Arturo Bova. Difficile seppur suggestiva la pista che porta a Flora Sculco. Lotta aperta anche sui territori, Catanzaro non intenderebbe cedere alla guida dell'assemblea pur a fronte di un deciso assalto alla presidenza che parte dalla provincia di Reggio. Province che dunque si sfidano e nascono partiti nei partiti, spesso trasversali alla stessa maggioranza. Oggi si riunisce alla conferenza dei capigruppo in Consiglio regionale mentre il PD si prepara alla prossima assemblea, quella del 20 luglio al centro agroalimentare di La Mezzia Terme dove partirà verosimilmente l'ennesimo processo ad Ernesto Magorno. Da definire, al di là della leadership del segretario calabrese del PD, vi sono alcuni snodi politici nazionali e regionali propedeutici all'avvio della stagione congressuale in almeno tre province, quelle di Catanzaro, Vibo Valenza e Reggio Calabria. Insomma, un'estate rovente per il PD, un'estate caldissima per tutti gli altri. Se avete sofferto il caldo in questi giorni, state tranquilli, sarà sempre peggio, almeno fino a 23 luglio. Venerdì 17, tralasciando la scaramanzia e attenendosi solo alla meteorologia, occorrerà trattarlo con molta cautela perché, secondo gli esperti, sarà uno dei giorni più caldi dell'estate 2015. A causa del transito sulla nostra regione dell'anticiclone africano, le temperature nelle ore più alte della giornata potrebbero raggiungere i 42 gradi, una situazione che andrà normalizzandosi lentamente durante il fine settimana, con temperature che dovrebbero tornare nei limiti dei valori stagionali. I consigli degli esperti rimangono sempre gli stessi. Il caldo può creare disagi anche gravi soprattutto ai bambini ed anziani. Per questo motivo, nelle ore più calde della giornata, incluse eccezionalmente tra le 11 e le 18, è consigliabile evitare di esporre queste due categorie più fragili all'AFA. L'abbraccio torrido dell'anticiclone ribattezzato Caronte non ci lascerà almeno fino al 23 luglio, con picchi di umidità dell'aria che aumenteranno la sensazione di caldo percepita anche di 4-5 gradi. Dopo il 23, Caronte mollerà la presa e cedereà il passo a un periodo di incertezza meteorologica caratterizzata da temporali e forti raffiche di vento che ci traghetterà nel mese di agosto. Parliamo adesso dei ticket sanitari. Al vaglio dell'azienda sanitaria provinciale dalla Guardia di Finanza di Vibo Valencia ci sono ben 10.000 posizioni irregolari per gli anni 2011-2012. Questa mattina si è svolta una conferenza stampa per illustrare proprio questa situazione. 10.000 posizioni passate al setaccio, non manco per l'ASP da oltre 1,5 milioni di euro. Giro di vite sui sensori di ticket non dovuti ai contribuenti che avrebbero indebitamente usufruito di alcune agevolazioni. I destinatari dei provvedimenti sparsi a macchia di leopardo nei tre distretti sanitari della provincia di Vibo Valencia dovranno provvedere, una volta ricevuto l'avviso, a sanare la propria posizione negli stessi uffici di Palazzo Exinam, a chiamare le dinamiche dell'operazione Verità questa mattina nel corso di una conferenza stampa in prefettura alla quale ha partecipato il capo dell'ufficio territoriale del governo Giovanni Bruno, i vertici delle fiamme gialle dell'Agenzia delle Entrate e dell'azienda sanitaria provinciale. Non vogliamo fare un'operazione di criminalizzazione, semplicemente bisogna fare chiarezza e bisogna dare l'idea che in questo momento ci sono dei controlli che consentono di trovare questa situazione anomale e di intervenire. Non verranno prese in considerazione le oltre mille posizioni inferiori ai 10 euro, sono invece 7.732 quelle comprese tra i 10 e i 500 euro. La fetta più consistente della torta, appena 608, le posizioni superiori a 500 euro. I destinatari dell'accertamento potrebbero anche ricevere la visita della Guardia di Finanza. In caso di mancato pagamento si applicheranno infatti le sanzioni previste dalla legge per questo tipo di reato. Ma quel che è più grave sono le possibili conseguenze sul piano del diritto alla salute per i cittadini. Il mancato pagamento e la mancata giustificazione del diritto alle sanzioni comporterà la sospensione delle prestazioni specialistiche. Noi manderemo una comunicazione ai medici di medicina generale che non potranno più prescrivere prestazioni specialistiche a questi cittadini. L'abbiamo sentito proprio nella parte finale di questo servizio. D'ora in avanti potrebbe essere disposto clamorosamente il divieto di prescrivere visite specialistiche in strutture pubbliche a coloro i quali non si mettono in regola. A ribadirlo anche il prefetto di Vibo Valencia Giovanni Bruno e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Paolo Valle. Per quelle più rilevanti verranno invitati da parte dell'ASPE e la Guardia di Finanza con due elenchi separati per verificare la posizione. Per quelli tra i 10 e i 500 euro verrà inviata una raccomandata direttamente a casa con l'obbligo di rispondere dai 30 ai 120 giorni. Il periodo preso in considerazione è quello che risulta dall'anagrafe debutaria al sistema TS anno 2011 da aprile 2011 al 2012, inizio di aprile 2013. Il trend di crescita porta da 600 mila euro nel 2011 a 900 mila euro nel 2012, quindi è da ritenere che potrebbe aumentare negli anni successivi. I cittadini vibonesi non devono aver paura dei controlli, anche perché servono per dare certamente più servizi e migliori servizi in questo caso nel settore sanitario. E quindi è soltanto un modo come sviscerare e far venire fuori alcune situazioni illecite, ma non per penalizzare il territorio e i cittadini vibonesi, ma certamente per dare più trasparenza e legalità. E a Crotone rischia di chiudere dopo 30 anni di attività la terapia intensiva neonatale. Il debutato Nicodemo Liverio chiede l'intervento del ministro Beatrice Lorenzin del commissario Massimo Scura. Rischia di chiudere i battenti il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Crotone dopo 30 anni di attività, con la conseguenza paradossale dell'esodo dei prematuri nelle terapie intensive di Catanzaro e Catanzarese, dove oggi vengono trasferiti nel team di Crotone circa 10 prematuri all'anno e gestanti con gravidanze a rischio di parto pretermine. A lanciare l'allarme il deputato Nicodemo Liverio, che annuncia la richiesta di un immediato intervento al ministro Beatrice Lorenzin e al commissario alla sanità calabrese Massimo Scura, sottolineando il grave disagio in termini economici e sociali delle famiglie. La terapia intensiva neonatale di Crotone è l'unica nella fascia ionica da tre bisacce a Crotone, che al suo interno ha detto Liverio, e attiva un servizio di cardiologia neonatale per bambini cardiopatici operati al cuore, che vengono seguiti anche in collegamento col Policlinico di San Donato milanese e il Bambin Gesù di Roma. Per il parlamentare, depotenziare ulteriormente l'ospedale di Crotone significa abbandonare in condizioni di assoluta debolezza e inadeguatezza la struttura sanitaria pubblica, finendo per penalizzare le popolazioni di quest'area già profondamente colpita dai tagli degli ultimi anni. Mare sporco e addirittura serpenti che in alcuni punti fiorano dalle acque. Succede alla Mezzia Terme e il sindaco Paolo Mascaro presenta un esposto in procura. L'estate è appena iniziata, ma il mare della costa Lametina è già inquinato, crocevia di spazzatura e rifiuti tossici. Tanti anomali avvistamenti, perfino di serpi che con tutta tranquillità uscivano dall'acqua creando agitazione e timore. Ecco perché il sindaco Paolo Mascaro ha deciso di fare un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica e al prefetto della provincia di Catanzaro, Luisa Latella, in cui chiede che si possa attivare ogni forma di tutela al fine di prevenire e reprimere qualsiasi voglia comportamento furiero di inquinamento. Per Mascaro affare le spese della grave forma di inquinamento che si sta presentando saranno non solo i Lametini, ma anche l'immagine stessa della città di la Mezzia Terme e dei comuni limitrofi, oltre che quella parte di economia locale che proprio dalla stagione estiva e quindi turistica trae sostentamento. C'è poi il tema della salute. Rifiuti, germi e batteri, ricorda il primo cittadino, costituiscono una minaccia concreta per la salute, specie dei soggetti più deboli come bambini, anziani e donne incinta. Ma a memoria dei problemi economici che l'amministrazione sta attraversando, Mascaro chiede anche collaborazione a tutte quelle associazioni che abbiano nel loro statuto la difesa del territorio e la tutela dell'ambiente, ma anche ad ogni singolo cittadino, affinché segnali alle forze dell'ordine ogni forma di inciviltà di cui sono testimoni, dalla carta lasciata in spiaggia alla presenza ancora più rischiosa di materiale nocivo in acqua. La Commissione parlamentare di inchiesta sull'accoglienza degli immigrati ha fatto tappa a Crotone. Le conclusioni dell'attività ispettiva sono state definite dal Presidente Gennaro Migliore. La Commissione di inchiesta sull'immigrazione preseduta da Gennaro Migliore ha fatto tappa a Crotone. È stata al centro di Isola Caporizzuto, il secondo più grande d'Italia, che ospita insieme agli Sprar la metà degli immigrati presenti in Calabria. Il sopralluogo è proseguito nella stazione ferroviaria dove sono accampati circa 100 migranti. La situazione della stazione è indecente. Non è non proprio regolare, mi permetto di usare questo termine perché c'è una condizione che non è degna di un paese come il nostro. Abbiamo chiesto un intervento tempestivo perché lì ci sono condizioni che riguardano le persone che sono in quel luogo, che non sono degne di un paese civile. Al centro di Isola, ha evidenziato il Presidente della Commissione, la situazione è comunque migliorata. Abbiamo verificato quali erano le sofferenze che erano state individuate, in particolare quelle sulle strutture sono state in questo momento risolte perché non ci sono più i container e stiamo verificando quali possono essere le altre prescrizioni sia sul versante della piena capacità degli ospiti di comprendere le indicazioni dal punto di vista legale, che riguardano l'erogazione del pocket money e anche dei beni e dei servizi che sono previsti dal capitolato. E adesso torniamo a parlare della vicenda della Gum Oil & Gas, un'azienda eccellenza del Vibonese, in un primo momento dichiarata fallita e poi riabilitata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Un'azienda che non doveva fallire, così ha stabilito la Corte d'Appello di Catanzaro. Un'azienda, la Gum Oil & Gas di Rombiolo, che però, per effetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vibbol, quale ha rigettato il piano di risanamento finalizzato al concordato preventivo, è finita in ginocchio e dopo 30 anni di presenza sul mercato, con un fatturato che ha toccato i 15 milioni di euro all'anno, è stata costretta a dare il ben servito ai suoi 126 lavoratori, interrompendo così la produzione e rinunciando ad importanti commesse. Abbiamo impugnato il fallimento e naturalmente anche la valutazione di inammissibilità del concordato e la Corte d'Appello oggi ci dice che avevamo ragione. Ci dice che avevamo ragione perché ritiene che quel concordato avesse in sé i presupposti per consentire la continuità aziendale. Per ricostruire questa vicenda imprenditoriale e giudiziaria è stata convocata una conferenza stampa nella sede di Confindustria. Ripartire, nonostante sia stata resa giustizia alla GAM, sarà dura, senza più maestranze, con le commesse in ghiacciaia, con le ferite di un'ingiustizia subita ancora addosso. Dopo tanti sacrifici vederti additato, come fallito, perdere tutto e trovarti dalla sera alla mattina senza niente, perché io nella mia azienda ho messo tutto, perché ci credevo, ci creda ancora tuttora. È stato molto brutto, che non auguro a nessuno perché queste cose fanno solamente male alla gente onesta, alla gente che ha voglia di lavorare, che vuole far crescere il suo territorio. In merito a questa vicenda clamorosa abbiamo sentito il segretario della CGL per la provincia di Vibo Valencia, Luigino Denardo. La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che annulla il provvedimento del fallimento della gamma OLE SPA, è sicuramente una vicenda che preoccupa forse ancora di più di quello che ci potevamo risparmiare se le cose si fossero messe al modo giusto e nel momento giusto, quando si poteva fare di molto e di più per evitare quanto è successo. Intanto ci preme come sindacato sottolineare che di tutta questa vertenza ad averne pagato il prezzo più caro e forse irreparabile sono stati i propri lavoratori, i quali sono stati repentinamente licenziati e i quali su quel licenziamento non solo hanno contratto notevolmente i benefici di ammortizzatori in sostegno di reddito, ma soprattutto hanno ovviamente perso circa la metà dei crediti che erano frutto dei loro sudori e dei loro sacrifici per stipendi arretrati che avevano nei confronti dell'azienda. In tutto questo comunque vada e ci auguriamo che vada per il meglio, niente e nulla potrà ridare ai lavoratori quelli che già avevano, perché hanno chiuso il rapporto in essere esistente e hanno ovviamente la possibilità di rientrare con il nuovo mercato del lavoro, con il Geopact, dove hanno perso tutte quelle, tutte le garanzie anti-riforma. Ci trasferiamo adesso a Cosenza. La città Abruzia è invasa dai turisti americani grazie al rinnovo del patto di amicizia tra Cosenza e Kenoscia. Rinnovata la firma del patto di amicizia, siglato nel 2004 tra i comuni di Cosenza, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende e la città di Kenoscia negli Stati Uniti, in partenariato con l'organizzazione Calabresi in America, con la Camera di Commercio di Chicago e con l'Università del Wisconsin. La firma si inserisce all'interno del progetto Strings Golden, che porterà 23 studenti universitari e 16 fra accompagnatori, funzionari e sindaco della città di Kenoscia in Italia. Nella loro settimana di permanenza nel bel paese visiteranno Roma e poi la Calabria, l'Unical, la Costa Tirrenica, la Sila e ovviamente la città di Cosenza. L'accoglienza cosentina prevede fra le altre cose in programma un tour della città capoluogo, con un passaggio al castello Normanno Svevo, riaperto di recente. Oggi per esempio siamo qui in una città dove il 30% vicino di Chicago, la città di Kenoscia, è di Cosenzini, addirittura una piazza davanti al municipio è stata intitolata la città di Cosenza e questo ci rende orgogliosi perché questa nostra identità si trasferisce e quindi riportano i nostri valori. E' uno degli uomini più potenti ed influenti al mondo, si chiama Russell Grandinetti, è il numero due del Colosso Amazon ed è calabrese. E' considerato il numero due di Amazon. Vicepresidente dell'area Kindle del Colosso, si occupa di gestire la vendita di e-book quotidiani e periodici ed è di origini calabresi. Lui è Russell Grandinetti e il prossimo 24 luglio ritornerà nel luogo in cui i suoi avi partirono nel lontano 1936 per ricevere la cittadinanza onoraria di Conflenti. Nella mezzia terme in conferenza stampa è stato presentato il programma della giornata che prevede che Grandinetti venga prima in visita nella città della Piana e successivamente a Conflenti dove verrà accolto dal sindaco Paola che lo porterà a vedere la casa abbandonata dal nonno per andare in America a cercare di procacciare una dote per la figlia. A promuovere l'iniziativa Francesco Grandinetti, politico ed editore, a cui tempo fa venne segnalato che un uomo di origini italiane portava non solo il suo stesso cognome ma gli somigliava anche fisicamente. Da qui la scommessa di contattare il numero 2 di Amazon e la piacevole sorpresa di trovare una persona affabile ed interessata a riscoprire le proprie origini. A presentare all'evento un corposo parterre istituzionale dal presidente del Consiglio regionale Antonio Scalzo, le cui dimissioni sono in via di ufficializzazione, al vice sindaco di Lamezia Francesco Cagliotti, il primo cittadino di Conflenti Giovanni Paola, il presidente del Consiglio di Lamezia Terme Francesco De Sarro e l'assessore Bilotta. Partirà domenica prossima e proseguirà fino al 27 luglio Armonie d'Arte Festival, la grande manifestazione musicale e artistica che si celebra ogni anno alla Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia. Estate e Armonie d'Arte Festival, anche per quest'anno la fondazione diretta da Chiara Giordano ha presentato al pubblico la Kermess che dal 19 luglio al 27 settembre riempirà di contenuti artistici il Parco archeologico Scolacium, a Roccelletta di Borgia, in provincia di Catanzaro. Un programma pieno di eventi, tra musica, danza, teatro, seminari, workshop, grazie ai quali la cornice del Parco diventerà un laboratorio artistico e culturale tra i più attivi nel meridione d'Italia. Si parte il 19 luglio con il concerto di Bobby McFerrin, cantante tra i più importanti del panorama jazz mondiale e noto al grande pubblico per la famosa Don't Worry, Be Happy. Il 25 luglio salirà sul palco il noto tenore José Carreras. La sezione musica d'autore si aprirà il 10 agosto con il concerto di Sergio Cammariere, a cui seguiranno il 24 agosto quello di Nina Zilli, il 26 di Francesco Renga. Quanto alla sezione creatività contemporanea, il 31 luglio in scena lo spettacolo in atto unico di parole, musica e danza, la terra degli olivi parlanti, il 5 agosto la pièce teatrale e le supplici, l'8 lo spettacolo di danza in signifidanza. Per la sezione progetti speciali invece il 17 agosto è spazio al balletto con Sherazad e le mille e una notte. Il 27 sarà la volta di David Riondino con il suo spettacolo di rime dantesche e musica più dura che Petra. Andiamo a sentire cosa ha dichiarato a margine della conferenza stampa il direttore artistico di Armonia d'Arte Festival, Chiara Giordano. Armonia d'Arte Festival ormai è un brand, siamo molto felici di riconoscerlo come assolutamente nel cuore ormai del pubblico locale, regionale, nazionale e anche internazionale. Però da quest'anno Armonia d'Arte Festival ha un teattuatore, che è una fondazione. Ho pensato che dopo 15 anni di esiti, diciamolo felici, era il tempo di consolidare questo percorso con una fondazione che raccoglie le risorse, le realtà migliori di questo territorio ma che si pone soprattutto come presidio culturale, strumento strategico per lo sviluppo del territorio sotto il profilo socio-economico e naturalmente prima socio-culturale, anche con una gestione importante del Parco Scolacium, che è un luogo d'eccellenza di tutto il sistema dei beni culturali calabresi e meridionali. Abbiamo vinto come fondazione, che peraltro ha già il riconoscimento della personalità giuridica, abbiamo vinto un'evidenza pubblica che ci consente di essere i concessionari in esclusiva del Parco Scolacium con un grande progetto di industria culturale che probabilmente è la prima vera impresa culturale legata a un bene culturale per l'appunto in Calabria. Ci fermiamo qualche istante per dare spazio alla pubblicità ma torniamo tra pochissimo con lo sport e soprattutto con gli approfondimenti legati all'addio al calcio professionistico della regina. Vi aspetto. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie. Un appunto in Calabria che fa notizie bus risultato 21